buongiorno benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui per spiegarvi come funziona il nuovo badlion client e parlarvi di tutte le cose che hanno aggiunto nel 3.0 innanzitutto dobbiamo partire dalla schermata iniziale dove dobbiamo attivare assolutamente blc3 per utilizzare appunto il 3.0 già da questa schermata però possiamo impostare alcune cose ovvero qui riguardanti impostazioni discord impostazioni launcher la risoluzione e quanta ram deve utilizzare una volta fatto questo scegliamo la versione e avviamo ok già da questa schermata possiamo notare che hanno cambiato tutto andiamo su multiplayer possiamo scegliere i server da mettere nei preferiti e entro sui pixel e vi mostro invece tutte le mod che sono state aggiunte e le cose che sono state cambiate posso assicurare che in realtà ora a me sembra anche abbastanza un po il contrario riguardanti le mod appunto hanno cambiato tutta la schermata ora le mod appaiono così e ci divide anche la sezione della grafica sezione della grafica dove vi consiglio di andare su graphics e better frame dove potete abilitare e disabilitare le cose in modo tale da fare più fps vi consiglio in grafica di disattivare tutte queste cose finali in modo tale per avere più fps e in better frame attivare quasi tutte le cose per quanto riguarda le mod ora le hanno divise anche in categorie e nelle mod che puoi impostare nei preferiti e hanno cambiato anche il modo con il quale si possono customizzare hanno cambiato il colore default hanno cambiato il font delle scritte default ora è molto più figo rispetto a prima prima mi faceva davvero cagare però la cosa figa del bad lion client è che il client più personalizzabile che sia mai esistito tu puoi farci letteralmente quello che vuoi mostro per esempio la mod degli fps oltre che la maggior parte delle mod non tutti lo sanno ma hanno due tipi di stili il tipo simple e il tipo fancy che cambiano molto l'aspetto e in base ai vostri gusti potete decidere se farlo comunque di ogni modo si può ormai cambiare bordino si può cambiare colore si può cambiare tutto è davvero fatto bene ricordo che cliccando su questa icona vi fa cambiare tutto hanno cambiato anche un pochetto qui l'hanno reso un pochetto più funzionale perché prima non potevi toccare dove stava la hotbar riguardo le fps torno un pochetto a bustare anche se purtroppo non busta quanto busta effettivamente luna client ma ovviamente è molto più pesante come client perché ti dà molte più mob ti dà molte più mod è molto più customizzabile e quindi è ovvio che non possa avere lo stesso busto di un client che ha due mod in croce comunque andiamo a provare un pochetto del pvp ok facciamoci un dual così giusto per giusto per e vi mostro come effettivamente le hit ora entrino in modo molto più fluido anche se effettivamente è una cosa che dovreste provare voi in prima persona perché magari dal video non si nota la differenza comunque ci facciamo questo pvp tattico tattico contro sto tizio che sembra voglia trajardare anzi sta trajardando dai su affrontami non aver paura sto facendo 7 cps per dio si sbrighi va bene mangiati la head dai va bene te la concedo però muoviti a schiattarci che ne dice che cosa ne dici di morirci grazie mille gg 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 e al supremo luca un'altra cosa che hanno aggiunto e mi son dimenticato di dire è che appunto si vede l'iconcina prima del nome ora di chiuso il pl e anche su tab un po come aveva fatto il lunar client ora ce l'hanno anche loro perché effettivamente non ci avevano mai pensato una cosa che mi piace un sacco del bl che di solito ti tirano fuori idee davvero davvero molto fresche e comunque ti creano una cazzo di versione del loro client per ogni versione di minecraft nella survival che facciamo tutti quanti insieme io ho giocino direttamente col bad lion client con la 1 16 4 perché mi viene molto più comodo e tanta roba davvero davvero tanta roba comunque vi vedo mi trovo davvero in un modo molto molto pulito nel far pvp non noto più la differenza che prima si notava usando il lunar client e come avevo detto ero abbastanza sicuro che loro avessero tra virgolette abbassato le prestazioni del loro client nei sensi di pvp ed fps per poi far vedere che avevano fatto di più durante il 3.0 è una puttanata da fare però io sono abbastanza sicuro che loro hanno fatto una cosa del genere riguardo sempre i client avrei intenzione di fare una serie in cui provo dei client perché sono sempre stato che palle non vinco non faccio un cazzo sempre stato curioso di vedere come erano diversi client non famosi che però comunque non sono client con delle hack dentro però semplicemente appunto non hanno fatto successo e questo tizio mi ha rotto il buco del culo mamma mia ma sei una bestia si va bene non ti tocco sei sei gesù va bene sei il boss finale di questo gioco va bene gg per te che ti do di mamma mia e niente mi ha menato nella mia stessa lava va bene va bene boss va benissimo mi hai dato proprio il cazzo non solo me ne hanno dato i miei iscritti facendo arrivare quel video in un giorno a 100 like cosa che tra l'altro mi ha fatto davvero un sacco piacere mi farebbe piacere anche vedere del supporto nel vostro mi farebbe anche piacere vedere del supporto in quest'ultimo video e nei vari video che usciranno in generale perché sul serio il supporto mi motiva una cifra io vivo di supporto invece però mi sa che questo tizio appunto mi ha chillato e niente spero che questo video vi sia piaciuto nei prossimi giorni dovrò dirlo molto molto spesso visto che avete distrutto la sfida che vi avevo proposto ricordo di seguirmi in live su twitch su telegram su discord su instagram e bo pure nel buco di culo dove sono uscito e nulla al prossimo video balla